Noi dobbiamo raccontare la città in positivo, ma non solo come racconto, come quotidiano che viviamo e viviamo davvero tanta positività, solo che sembra che a volte ci sia quasi la corsa a rintracciare il negativo e a metterlo in luce. Siamo consapevoli invece di avere tante ricchezze, proprio un capitale umano importantissimo che vogliamo valorizzare anche in maniera istituzionale e devo dire che credo che abbiamo colpito proprio nel segno perché quando abbiamo lanciato questa iniziativa si è subito scatenata la corsa alle segnalazioni delle eccellenze ma c'è quello, c'è quello, c'è quell'altro, quello ha fatto questo, quello ha fatto quest'altro. Siamo consapevoli e siamo contenti. Ovviamente noi ci siamo dati un criterio per questa prima edizione sperimentale puntando un po' l'attenzione sul periodo che ci vede anche amministratori della città. Tra le altre eccellenze anche Carmine Conversano. Sì, abbiamo ritenuto di rivolgere un pensiero al maestro Conversano tra l'altro nell'anno centenario della sua nascita perché ci siamo resi conto da quando ci siamo insediati che tante sono le attestazioni legate al nostro pittore e artista andriese che ci sono state consegnate e ci siamo altrettanto resi conto di quanto poco conosciuta sia questa figura rispetto invece al valore che ha profuso durante la sua attività artistica. Tra l'altro una persona che davvero si è fatta da solo dal punto di vista artistico, un'autodidatta motivo per cui ci teniamo a chiamarlo maestro piuttosto che professore o piuttosto che con altri titoli. Oggi stiamo dando plasticamente senso anche a quella che è il nome della mia delega, l'assessorato alle radici. Chi meglio di queste eccellenze, che è una prima tappa, una prima fase perché la festa dell'eccellenza o comunque il riconoscimento di queste eccellenze durerà nel tempo ogni anno ma probabilmente anche quest'anno si vedrà una doppia edizione. Perché queste sono attività che hanno rappresentato la storia, l'identità di un territorio e non a caso per esempio tutte queste attività sono circoscritte all'interno del centro storico perché negli anni, nel tempo hanno resistito anche quello che è il concetto di globalizzazione di tipo economico quindi loro come piccolo commercio hanno dovuto affrontare sfide importanti hanno resistito, hanno resistito nel tempo con un tramando di padre in figlio sino ai nipoti e questo significa che ci sono anche valori oltre le attività commerciali che vengono trasmesse.